Non sono armata! Giornalista! America! Signore e signori, corrispondente di guerra dell'anno, Mary Colvin. Dove hai preso quella benda da pirata? Sull'isola del Tesoro. Mi serve un bravo fotografo. Ne conosci uno? Il migliore. Ci penso continuamente. Se non sei pazzo, non ti abitui mai a tutto questo. La guerra non è così terribile per chi governa. Non viene ferito o ucciso come la gente comune. La nostra missione è dire la verità ai potenti. È pronto a trascinare il suo paese in una guerra civile? Odio trovarmi nelle zone di guerra, ma mi sento costretta a vederla con i miei occhi. Perché ne sei dipendente? Nessuno sano di mente farebbe quello che fai tu. Deve andarsene subito da lì. Tutti devono conoscere la tua storia. Tu hai il grande dono di riuscire a far riflettere le persone. All'essere vivi! Lo so io! Non serve che tu lo sappia! Se non ci credi neanche tu... ...a noi che speranze rimangono? Forse avrei potuto scegliere una vita normale. Forse non ne sono capace. Ciao a tutti. Oggi ho qualche piccola curiosità per voi dal mondo del cinema. Lo sapevate che il 90% di film girati negli Stati Uniti prima del 1929 è andata persa? Perché non si usava di farne più copie. Peccato. Una volta al cinema si usava a far vedere i trailer dopo il film. Non come oggi con 20 minuti di pubblicità, trailer e poi il film che hai pagato per vedere. In Nigeria vengono prodotti più film all'anno che negli Stati Uniti. Eh, chissà. Magari un giorno Nollywood diventerà più famosa di Hollywood. I pop corn nei cinema americani costano più al grammo di un buon filetto di carne al ristorante. Interessante, eh? Anche qui, eh? Non è che si vada molto lontano. Una serata al cinema può essere abbastanza costosa, lo sappiamo. Voi cosa ne dite? Per oggi è tutto. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche per non perdervi i nuovi video in arrivo. A presto. Grazie.